stars portrait il senso di carmen per la vita fotogenia e carattere fanno di una bella ragazza una modella carisma professionalità determinazione le persone giuste fanno di una modella una top model ma valicare i limiti imposti dallo scorrere del tempo e dal sistema fanno di una top model una leggenda carmen dell'orefici è una leggenda vivente del mondo della moda ma soprattutto è una donna moderna lui era anche 75 anni fa quando adolescente conquistò la sua prima cover di volk e con essa la prima rivincita su una vita che solo una grande determinazione e una innata indistruttibile eleganza avrebbero reso leggendaria carmen adorava la danza come tante bambine di oggi ma era nata povera 89 anni or sono quando ciò significava anche ammalarsi di febbre reumatica e non potersi curare adeguatamente dovendo dire così addio al sogno di una vita sulle punte ma a carmen questo non andava bene e penso alla proposta di quella signora sul bus qualche tempo addietro mentre andava una delle sue adorate lezioni di danza sarebbe stata una modella lo è stata e lo è da quel momento ad oggi ha vissuto il successo ha conosciuto il dolore ha sposato e poi divorziato dal primo marito ha avuto una figlia ha perduto persone care è stata cittadina del mondo delusa da alcuni e ammirata da molti è stata viziata adorata tradita e anche truffata ispiratrice per gli artisti ed esempio per le donne del suo tempo e in ogni tempo già da quando ultra quarantenne vittima di operazioni finanziarie sbagliate che la lasciano sull'astrico e orgogliosa dei suoi capelli argento ritorna al mondo della moda alla dimensione che lei è più congeniale o forse semplicemente a essere ciò per cui è nata una modella o forse un modello sì un modello da seguire ci ha creduto carmen ha creduto fermamente che il tempo fosse un alleato e non un nemico da abbattere e che la bellezza andasse coltivata in ogni sua forma è più bella oggi che mai dentro e fuori è bella la sua voce è bella la sua faccia il suo corpo ma soprattutto è bella la sua anima a cui non ha permesso di perdersi perché senza quella tutto svanisce e perde di significato lo sa bene carmen e lo sanno bene nell'industria della bellezza continua a spilare regolarmente e quando c'è i riflettori sono solo per lei la scelta rolex per rappresentare in tutto il mondo il fascino senza tempo dei suoi orologi e guardandole in quelle foto sarà risultato facile dire classes forever già la classe la classe è un dono consegnato a pochi con un preciso compito quello di ricordarci che ciò che conta è l'atteggiamento da tenere nei confronti del tempo che passa no perché il tempo è un alleato per riparare agli errori commessi per concedersi un'altra opportunità per dare un senso alla propria esistenza e scoprirne il significato quello di carmen per la vita si rivela ogni qual volta presta il suo volto a una campagna o il suo portamento durante una spilata ma ancora di più davanti alle telecamere quando si racconta e sembra dirci che il successo non ha sapore se non si conosce la sconfitta la bellezza non ha valore se non ne hai consapevolezza la ricchezza non fa felici se non regala benessere al traguardo non ci arrivi se non hai degli obiettivi e non diventi una leggenda se non ami la vita ma fu 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 ma fu